Musica Massimo Scura, commissario straordinario alla Sanità Calabrese, sarà venerdì 8 a Locri, dove accogliendo l'invito del sindaco Giovanni Calabrese visiterà l'ospedale per rendersi conto in prima persona, spiega una nota delle comune della condizione precaria in cui versa l'importante struttura sanitaria locrese. Il sindaco locrideo Giovanni Calabrese da oltre un anno si sta battendo a salvaguardia della struttura ed ha tutela della salute dei cittadini della Locride. Per le ore 9.30 è previsto l'appuntamento tra Scura e Calabrese che accompagnati da Santo Gioffre, commissario straordinario dell'ASPA di Reggio Calabria, faranno visita alla struttura ospedaliera. Grazie per la visione!